buongiorno a tutti e ben trovati alla nostra rubrica domanda risponde oggi parleremo di maturità di esami di stato 2022 valutazioni e prove prima domanda chi decide quante ore dureranno la prima e seconda prova dell'esame di stato del secondo ciclo 21 22 per esempio la prova di matematica del liceo scientifico quanto durerà allora è scritto chiaramente nell'articolo 17 comma 2 dell'ordinanza ministeriale degli esami di stato in cui emerge che la prima prova scritta sarà svolta mercoledì 22 giugno 2022 al dalle ore 8 e 30 con durata di 6 ore e dunque terminerà alle 14 e 30 mentre per la seconda prova scritta oppure grafica o scritto grafica o pratica o compositivo esecutiva musicale e coreutica sarà svolta giovedì 23 giugno 2022 la durata della seconda prova è prevista nei quadri di riferimento del decreto ministeriale numero 769 del 2018 qualora in questi suddetti quadri di riferimento si prevedano un range orario che oscilla da un minimo massimo la durata è definita dalla sottocommissione per la prova di matematica invece negli licei scientifici per venire alla domanda che ci è stata posta il dm 769 del 2018 non provvede range orario ma definisce seccamente che la durata della prova è di sei ore per cui la durata della prova di matematica sarà appunto di sei ore dunque se inizia alle 8 e 30 terminerà alle 14 seconda domanda come viene attribuito quest'anno il credito scolastico da parte del consiglio di classe allo scrutinio finale della classe quinta allora per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di 50 punti i consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all'allegato a del decreto legislativo 62 del 2017 ovvero su una base massima di 40 punti e poi procedono a convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all'allegato c dell'om dell'ordinanza ministeriale degli esami di stato 2021 2021 domanda numero 3 nel documento del 15 maggio possono comparire riferimenti agli studenti anche solo riguardo il loro nome e cognome beh nella redazione del documento del 15 maggio i consigli di classe tengono conto altresì delle indicazioni fornite dal garante per la protezione dei dati personali con come da nota 21 marzo 2017 protocollo 10.717 le scuole sono chiamate ad agire nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà e delle libertà fondamentali nonché della dignità degli studenti anche con particolare riferimento alla riservatezza all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali questo è quanto speriamo che le risposte date alle domande che ci sono prevenute sugli esami di maturità 2022 siano utili al nostri e nostri lettori poneteci altre domande anche per altri argomenti per le prossime rubriche di a domanda risponde arrivederci a tutti grazie a tutti grazie a tutti